quest'anno abbiamo preparato diversi eventi nuovamente per voi allora si parte in luglio con le escursioni con i bimbi pletro park for kids che le nostre guide portano giù i bambini si gioca nel bosco e si gioca giù in gola poi abbiamo altri per gli adulti per esempio escursioni a piante medicinali dove le nostre guide vi raccontano cosa si può fare con le piante e poi c'è l'escursione geologica che parte anche giornaliere ma abbiamo proprio uscite con i nostri scienziati che vi porta un po più profondamente nel tema geologico invece in in luglio a fine luglio c'è un bel evento di sera dove diversi scienziati sia del museo geologico di bolzano del museo del museo di trento vi fanno vedere i pianeti dalla vista terrestre e dalla vista geologica fanno i confronti o le differenze vi raccontano le differenze a fine di agosto abbiamo un bel evento di sera proprio per voi se non sapete cosa fare venite qua al bletterpark e possiamo con l'aiuto di scienziati possiamo vedere la differenza della geologia terrestre che quella dei pianeti che troviamo sulla proprio di notte visibile bene in cielo allora con l'aiuto di telescopi guardiamo su e ci raccontano diverse storie del marte e del giove sul livello geologico